registrazione video 4k 60 fotogrammi al secondo galaxy s20 migliora decisamente la stabilizzazione rispetto alla versione alla risoluzione 8k però non è possibile registrare video per più di 10 minuti altrimenti il dispositivo si surriscalda come viene affermato dal pop up che appare quando utilizziamo questa risoluzione come si vede abbiamo lo zoom a 10x rovina praticamente l'immagine vediamo riducendo al 4x insomma la qualità dell'immagine almeno da quello che posso vedere dallo schermo in questo momento ovviamente andrò a vedere su schermi più grandi insomma non sembra proprio ottimale la qualità dell'immagine quando si va a zoomare cosa che ho notato anche con gli scatti insomma immagini fisse registrazione video 4k a 60 fotogrammi al secondo galaxy s20